Ciao a tutti, benvenuti nel canale, in questo video voglio parlarvi delle schede punti che sono state introdotte con la stagione 3 di Fortnite quindi vedremo insieme come completarle tutte Premetto che me ne mancano 4 e sono quella di arrivare al livello 100, di resuscitare i compagni di squadra, di rianimare i compagni di squadra e questa qui che chiede di procurarsi nello stesso momento 999 di ogni materiale levate queste 4 e vediamo insieme quelle scoperte Superstite, in questa sfida dovete praticamente posizionarvi nella top 10 per 10 volte, 100 volte eccetera eccetera Se trovate questa sfida difficile vi posso consigliare magari appena atterrate di prendere l'elicottero e di rimanere in cielo come dei godardi fino a quando non raggiungete i per 10 anche se giocando normalmente, se ci sapete fare, comunque riuscite a completarla Qui dovete vincere praticamente la partita in modalità diversa quindi rissa squadre, singola, squadre, coppia eccetera Questo è quello dei materiali di cui vi avevo parlato Questo è quello di raccogliere materiali di qualsiasi tipo quindi picconate e raccogliete materiali Questa sfida invece vi chiede di consumare dei consumabili tipo i funghi o le mele che trovate al frutteto quindi usate funghi e mele e così potete completare la sfida Qui dovete distruggere gli alberi quindi qualsiasi albero andate di piccone Qui dovete cercare nelle casse di rifornimento che sono quelle casse che scendono dal cielo quindi appena toccano terra voi le esplorate, cercate, interagite con le stesse e il gioco è fatto Qui invece dovete fare la stessa cosa però con i lama i lama sono più difficili da trovare dovete avere un pizzico di fortuna perché appaiono random Qui dovete praticamente sparare alle casse di rifornimento vi basta fare questo una sola volta quindi sparate ad una cassa mentre sta scendendo e così completate questa sfida Qui dovete cercare i forzieri rari che sono quelli praticamente blu quelli che emanano pure un suono leggermente diverso dal classico forziere Qui dovete aprire scatole di munizioni e qui i forzieri quindi queste due sfide le si fanno con il tempo Qui dovete eliminare i giocatori quindi giocate e basta uccidete, scusate, i giocatori e così fate la sfida Qui dovete infliggere i danni quindi sparate ai giocatori niente di più semplice Qui dovete eliminare i predoni i predoni sono dei nuovi nemici che trovate nella battaglia reale classica sono abbastanza aggressivi quindi appena sentite una musica o vedete tipo un razzo che scende dal cielo sono i predoni quindi li dovete eliminare Qui invece dovete eliminare gli scagnozzi che sono quelli che trovate anche a Gattogrilla Qui dovete eliminare i giocatori con diverse armi quindi con tutte le armi che ci sono nel gioco Qui invece con i fucili di precisione da 150 metri di distanza con le pistole con gli esplosivi con le mitragliette con i fucili pesanti fucili d'assalto con il piccone Questa potrebbe essere una sfida abbastanza difficilotta ma non è così difficile se mettete in rissa squadre e andate in giro con il piccone prima o poi vi capiterà di eliminare un giocatore Queste sfide segrete sono quelle di cui vi ho parlato Qui dovete pescare nei punti quindi praticamente non a caso dove ci sono tipo quelle circonferenze nell'acqua dove ci sono i pesci dovete usare la focina o la canata pesca o la granata l'importante è che pescate Qui dovete cavalcare uno squalo bottino ho fatto già un video su come fare questa sfida Qui dovete pescare proprio pesci quindi non armi ma pesci Qui dovete potenziare le armi vi sono vari punti sulla mappa dove potenziare o alterare le armi magari poi farò un video dove vi mostro una posizione che è l'ideale Qui dovete potenziare armi di diverse rarità quindi le blu, le verdi, le viola arancione eccetera quindi dovete potenziare praticamente tutti i tipi di armi di rarità Qui dovete alterare un'arma quindi invece di potenziarla l'alterate che è un'altra opzione che è presente nel chiamiamolo banco da lavoro in quell'aggeggio dove ci si può potenziare o alterare l'arma Qui invece ci sono gli encomi da esperto quindi voi sparate a più non posso con le singole armi facendo kill su kill e riceverete i vari encomi Qui per le eliminazioni quindi per due per tre per quattro sono i moltiplicatori Qui invece la prima volta quindi la prima uccisione il primo forziere il primo pesce eccetera Questa è sempre una sfida segreta di cui vi ho parlato Sfide rapide completate sono quelle del giorno quindi cioè quelle che trovate sempre all'inizio di ogni partita ci sono delle sfide da completare sono queste praticamente Qui ci sono le sfide settimanali e qui ci sono invece le schede punti quindi sono praticamente i punti appunto che fate con le varie schede Stessa cosa Qui sono le legacy praticamente sono gli obiettivi sono quelli che trovate nella carriera praticamente Ci sono varie sfide segrete che se le fate sbloccate appunto le legacy Qui ci sono le monete verdi e le monete viola che sono disseminate nella mappa appena posso condivido con voi la mappa con la posizione delle monete Qui dovete praticamente ringraziare l'autista quindi quando giocate ogni volta che giocate ringraziate l'autista fino a quando non completate tutte le sfide Qui dovete usare un mulinello quindi uno qualsiasi lo usate e la sfida è fatta Qui lanciate un oggetto nulla di più semplice Qui dovete invece abbattere un nemico e poi perquisirlo quindi non dovete ucciderlo il bot praticamente lo scagnozzo lo colpite e poi lo perquisite e infine c'è quella di danzare su una zipline nella tempesta di cui ho fatto il video assicuratevi di completare tutte queste sfide perché ogni volta che completate una sfida ottenete se non vado errato 14.000 punti esperienza forse qualcosa in più dipende poi dal tipo di sfida e grazie a queste sfide livellerete velocemente nel pass battaglia grazie a tutti grazie a tutti